Questo, questo o questo? Perché io mangio a caldo ormalla? Io non capisco niente! Ma vi devo farmi parlare? Questa stanza poi, siccome è di passaggio, è stata divisa preciso a metà. E questo tavolino qua al centro... E ho pure per lì! Esattamente, esattamente. Poi la cucina e per forza la manià è di tutti qua. E qui mi apparese. C'erano due spi che si ha messo un apparecchio di Gepinacca e un apparecchio di Margherita. E allora che stanno qui, Bobi? Super! E me non potevano parlare qui! Papà, quando la parte avversaria parlava qui, che l'altro sentivano indietro queste cose che non fanno buono queste cose. Secondo me, questo era un altero scleroso in campo. Papà, d'altronde, chi è nato ormè? Chi è rimane vanno andando giù, e se spartano per male leggi. Eh, eh, se spartano per male leggi? Ma io vorresti capire con chi va? A più tribunale a chi va qui! Io non sono capace di capire, non ne sono la picchia! Papà, lasciate questa poeta. Mi tengo il rino spazzato. E si capisce? Che lo posso ombro io a casa che sono la ricetta? Papà, voi avete ragione. Ma chi sa che fine fascista? Però io oggi ho pensato di mettere un'inserzione con il giornale. Ma che? Un'inserzione. Un'inserzione. Sì. A vero, Francesco. Ma come sta ci popando in questa casa? Trovasse uno spazzolato come un me che mi volesse spazzolato. Ecco qua. Rosa Passita, presso Iaccarino, via, fuori, 136. Napoli. Napoli. E chi è questa Rosa Passita? Papà, sono chi? Rinda queste cose. Non ci mettono un uomo vero. Ah, sì? E allora come stanno le cose? Io ho già guardato pure le fatte qui. Chi metto qua l'inserzione? Carofano schiavone. Ah, sì, sì, sì. A me capito? Ti metto già a fare il spettacolo. Ma se no che sto capace che mi mettono a pensare, capito? Ti capito o no? E' inutile. Quello non ci sta diventato a fare. Che cosa c'è? Hai visto la cosa? Ah, questa. Questa è capace. Mi fa po' un fegato fracido fino alle ultime ore. No, no, ma fegato. A me un fegato non mi piace. Facetemi la d'agosto. Papà, facete ci sta prendendo un momento. C'è chi è un'altra lettera a noi? Un'altra. No, che non portassi. Questi sono venuti con una pasta manca per la casa. Però fa miseria e sembra la stessa canzone. Ma che è una canzone che ha stata leggendo? Sì, papà è un solo mio. E tu vuoi mettere lo tappato? Papà, facete una cosa. Io da parte l'altra sta facendo la di pure i bambini. Eh? Ah, tu me lo vuoi dire? Chi ne c'è sta che non c'è lì? 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 E poi vado a venire la casa. Ma non c'è tutto qua nel buon lavoro. Sta tutto sul letto. Ma non c'è lì? Ma non c'è lì? Ma non c'è lì? Ma non c'è lì? Non c'è lì? Ma non c'è lì? Ah, a parcelli. Questa c'è lì? Questa c'è lì? Questa c'è lì? Vostra moglie vi tradisce con noi. Fate attenzione. Perché le corna crescono di un centimetro ogni volta che viene il sabato e si fermano quando arriva la domanda. E già! Il colno si è riposo, no no?